Buonasera Londra, normalmente consideriamo il senso della fame e il senso della sete come due cose separate, ma è realmente così? Scopriamolo! Come avrete già intuito, fame e sete si influenzano a vicenda. A volte abbiamo fame quando in realtà abbiamo sete, mentre altre volte quando sentiamo l'esigenza di bere in realtà basterebbe mangiare correttamente. Partendo infatti da quest'ultima considerazione vediamo che tutti gli alimenti qualitativi e che non vengono lavorati sono ricchissimi di acqua. Ovviamente frutta e verdura in primis, ma anche la carne si viene leggermente scottata come il pesce e infine i cereali e legumi con la cottura si ridratano. Normalmente una persona assume un litro durante la giornata attraverso il cibo, ma se la sua alimentazione è corretta questo litro può anche raddoppiare. Così se mangiamo correttamente ci stiamo già idratando e stiamo mantenendo un rapporto ottimale fra sodio e potassio. Se mentre mangiamo invece ci viene sete o stiamo introducendo alimenti disidratati o troppo ricchi di sodio. In questo caso comunque è bene bere, è un vecchio mito quello che l'acqua che diluisce i succhi gastrici. I succhi gastrici per funzionare bene hanno bisogno di acqua che ha un potere litico ovvero scinde le molecole e quindi aiuta il nostro parato digerente nella sua funzione. Ricordatevi comunque sempre che un'alimentazione sana passa da cibi con una bassa densità energetica, ovvero per 100 grammi hanno poche calorie e come fanno ad avere poche calorie sono ricchi d'acqua. L'altro consiglio all'opposto è che molto spesso il nostro organismo confonde la fame con la sete. Bere aiuta il nostro senso di sazietà, così prima di sederci a tavola possiamo bere un bel bicchiere d'acqua e dobbiamo ricordarci di farlo anche se non avvertiamo subito il senso della sete, perché quest'ultimo è già il segnale di una carenza. Non voglio addentrarmi troppo sulla questione d'acqua, vi metto il link perché abbiamo già girato un video su tutto quello che dovete sapere sulla corretta idratazione, ma ricordatevi sempre che se siete affamati durante il giorno, controllare se abbiamo bevuto a sufficienza è un buon modo per rallentare e tenere a freno la fame. Alla fine se sentite qualcuno che sostiene hai fame, bevi, hai sete, mangia, non sta così sbagliando, perché come in un corretto ecosistema idratazione e sana alimentazione vanno di pari passo. Io ti ringrazio di essere arrivato fino qua, iscriviti al nostro canale se vuoi rimanere aggiornato, ti lascio sotto anche il link della nostra Acropoli, la nostra rivista digitale dove puoi rimanere aggiornato, dove vedi casi studio e hai la possibilità di accedere ai nostri webinar privati settimanali dove approfondiamo con gli esperti del settore tutti i nostri argomenti. Io ti ringrazio e ci vediamo con un prossimo video. A presto!